a taro 800 parsifal parsifal ancora allora i caricamenti di taro 800 sono qualcosa di vergognoso sono una cosa desagerata c'era tutta l'istruzione qua era anche piccolino come manolo detto no poca roba ti spiegava un po il gioco ma dovevi tutto tutto il tempo di leggere le istruzioni ti spiegavano ti immaginavi il gioco una volta che l'avevi letto parsifal tu dovevi scappare da delle stanze dovevi prendere due chiavi per scappare dalla stanza e andare a quella successiva erano in tutto 30 non dovevi toccare gli ostacoli ci piaccia quando quando riusciva a prendere una chiave compariva l'altra e i mai comparivano al dia la decima stanza la ventissima stanza la tredesima stanza tutto questo non dovevi toccare gli ostacoli ecco ok ok parsifal macello di tempo a caricare e questo è il gioco che uno si immagina chissà che il gioco è questo qua proprio questo qua così start eccolo lì vendicare alla pelle hai capito dai contro i tre maghi e mai partiamo faccia pinta aspetta per favore one moment please partiva sta caricando con calma con molta calma che questi qui sono giochi che eccoci preparati per la stanza numero 1 12 sono 30 stanze eccolo quando sto meno qui vedete molto tranquillo deve andare qui deve andarli tac prende la prima chiave gli ostacoli sono i tranquilli prende la seconda chiave e va alla stanza 2 fine adesso la seconda stanza vedete che storia già cambia dici ma insomma e quelle cose lì che lampeggiano e saltucchiano se tu fai la svelta sta lì fermi dopodiché inizia a muoversi eccolo la guardate dove devo andare se io frizzo se io schiaccio il pulsante rosso dell'industrier si ferma tutto e io posso anche evitare vedi però il tempo visto come corre il tempo è una cosa vergognosa però tu devi cercare di prenderla prima guarda dove me l'ha messa la seconda presa ok poi siamo salvi è perché se io schiaccio il pulsante guardate 44 93 42 cioè corre da maledetti il tempo ma noi ci riproviamo l'ultima volta che indicano spostati grazie ecco perché così guarda che bello sinistra destra ha creato mobile mouse e vi fa un po a te di per favore vengono fuori un po di cose un po di scritte viene fuori la linea così col tasto con se tu muovi a sinistra invece se vede a stava dire stanza numero 1 mai ok dov'è la chiave ok qui la prima la seconda stanza numero 2 corri 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 che non c'è tempo avete visto dov'è il tempo no l'accio 89 78 se io tengo premuto il tasto si ferma il tempo però corre di maledetti ok buona abbiamo superato anche la seconda stanza abbiamo la terza silenzio ammazzo eccoci inizio no sono fermi corri corri guarda maledetto visto l'ho frizzato un po ma non sono riuscito a prenderla lo stesso corri corri ok cioè diciamo che se c'è un gran bel culo ti mettono le chiavi in una posizione abbastanza fittizia bella comoda e riesce anche andare avanti 4 vediamo se riusciamo a rimanere al primo mago non dico tanto al primo se finisce qua così basta e non vado non vado oltre sì aveva sono andato a sbattere dove basta proveremo la prossima volta e questo è così ragazzi non posso non posso mica se volete vedere altre disavventure del signor parsifar del signor parsifar qui me lo dite e io ve lo faccio vedere va bene intanto ci fermiamo per ora è tutto la vostra mia cosa 79 si rampiti tempi d'attesa esagerati caricamenti infiniti 5 superami 5 minuti e ve lo dico poi vedete voi grazie grazie Grazie.